Sì, scocca il fischio di inizio della partita col Giarra che attaccherà da sinistra verso destra c'è Sandro Baglione dalla destra lo schema, Biccio Arcidiacono numero di parte di Biccio Arcidiacono e poi c'è un intervento da parte del direttore di gara che va ad ammonire addirittura Biccio Arcidiacono e qua c'è tutta la stagione del Giarra che reclama un calcio di rigore tre giocatori in barriera invece attacca il numero 4 per la conclusione e la palla che va solamente sull'esterno della rete nonostante sia stata deviata da Giannini mentre angolo dalla destra attenzione il tiro, la palla che va a sbattersi sul palo, Reala Versa vicinissimo al vantaggio Giannini reclama molta attenzione ancora l'ennesimo pallone di testa, si dispera anche in questa circostanza il capitano è uscito soltanto in una circostanza per la rosa, bene si frappone Giuffrida, pallone indirizzato totalmente all'altro lato per Arcidiacono, può caricare Arcidiacono conclusione deviata ma non trova né la potenza e né la precisione lo spazio per l'ultima palla Giannaula è col numero 26 vuole entrare in area di rigore invece sarà rimesso laterale ma non c'è più tempo perché dopo 4 secondi e 45 minuti soprattutto le due squadre vanno negli spogliatoi con i 45 minuti di gioco stavolta è tutto buono appunto Domenico Russo per Sannia attenzione intanto alla conclusione di Sandro Baglione ci ha provato Giara mentre attenzione Baglione va col destro il pallone è messo in mezzo Picciarcidiacono calcia col sinistro ma non trova lo specchio della porta però tiro mancino perché sta per entrare Antonio Cannavo finisce la partita di Peppe Giannaula è l'ettangolo di gioco batte per Tosa intanto questo calcio di punizione ancora per Arcidiac Cannavo, Cannavo attenzione al tentativo di Antonio Cannavo praticamente in acrobazia quindi escono Giovanni Giuffrida e Alfonso e Sandro Baglione ed entrano Alfonso Sessa e Cocimano anche i tifosi del Giara intanto Limonelli il cross attenzione il tiro il colpo di testa di Ivana Gudiac in avvitamento esce di un nulla esce la rosa Musso si sposta invece a destra i giocatori Granata mentre Musso immediata profondità per Antonio Cannavo attenzione al movimento delle punte di Bicci Arcidiacono Arcidiacono tira Arcidiacono gol ha segnato Bicci Arcidiacono è il gol che può cambiare la storia di questa partita gran profondità 38 in questo secondo tempo l'esultanza del numero 7 che va ancora una volta dal proprio pubblico dai propri tifosi a festeggiare perché un gol è pesantissimo Giarre 1 Reala versa 0 a 7 dal termine la firma di Biccio Arcidiacono Musso pallone per Gudiac Cannavo poi ancora vanno sul pallone praticamente in due c'è Cannavo la conclusione palla che fa stamparsi sulla traversa il gallo attenzione al pericolo e non c'è nulla assolutamente espulso Porcaro è espulso Porcaro è stato espulso anche il numero 7 Pio Schiavi mentre uscirà Arcidiacono probabilmente l'ultima iniziativa ma c'è il triplice fischio di chiusura Giarre che torna alla vittoria una vittoria pesantissima davanti al proprio pubblico 1 a 0 di misura al Pio Schiavi Pio Schiavi Pio Schiavi Pio Schiavi